In Italia non esiste alcun know-how per una televisione privata, non esistono i tecnici e quindi noi stiamo formando dei giovani che a poco a poco diventano dei professionisti. Non possiamo prendere i tecnici dalla RAI, prima di tutto perché non lasciano molto facilmente la RAI e poi ancora perché hanno un altro modo di lavorare. Non va bene questo modo RAI per le televisioni private. 5 sono le cose che conquistano il tuo cuore, la simpatia, le risate, l'avventura, il sentimento e l'amore. Formula speciale che trasforma il tuo televisore in un magico varietà, è Formula 5 la felicità. La 5 mi conquista perché, un grande amico l'ha inventata per te, è l'amico più sincero, più simpatico che c'è. Anche per la RAI c'è stato un incitamento. ha vinto a migliorare i suoi programmi dovuto a questa concorrenza dei canali 5. Cioè poi Berlusconi ha fatto quello in tre anni che la RAI ha fatto in 30 anni. Quindi noi dobbiamo avere questi canali privati, non è possibile che ci tolgano questi diritti perché è un diritto di tutti i cittadini italiani. Grazie. 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 Grazie.